La guida attaccante del Vasto Girardi è saltata anche questa partita col Monte Giorgio di una settimana ma vi state comunque allenando, questa domenica l'avete dedicata ad una seduta mattutina di allenamento? Sì, sì, non ci siamo mai fermati da diciamo anche quando è finito il campionato ci siamo preparati bene questa settimana, abbiamo avuto una settimana in più di lavoro da poter fare per preparare al meglio, siamo pronti per domenica E' uscito il nuovo protocollo, è chiaro che non si possono fare programmi perché si è sempre sul chi va là ma la mancanza più brutta possiamo dire è proprio quella della partita la domenica Sì, diciamo che noi ci alleniamo per giocare, facciamo sei giorni di allenamento per prepararci al meglio e poi arrivare la domenica e rinviare sempre non è bello però giustamente le partite devono essere fatte tutelando la sicurezza di tutti speriamo che da domenica si riprende e non si smette più Sì, è importante anche per voi perché comunque eravate al lavoro non soltanto per crescere ma anche per proseguire il buon cammino che avevate intrapreso all'inizio della stagione Sì, sì, diciamo che siamo partiti abbastanza bene, possiamo fare molto di più l'abbiamo dimostrato, abbiamo perso parecchi punti che diciamo di inesperienza comunque siamo giovani ma comunque lavoriamo e vogliamo migliorare ci teniamo tutti a migliorare, siamo tutti molto molto giovani e lavoriamo per questo Un altro risultante che non è da poco è proprio quella di non avere pressioni Ma se non ci sono pressioni in un certo tipo ce ne sono in un altro tipo noi comunque se non abbiamo pressioni cerchiamo di mettercele tra di noi perché comunque averle fa bene, fa bene pure per crescere quindi siamo tranquilli, siamo sereni